Il comune di Sondrio fa appello ai cittadini chiedendo di segnalare l'eventuale disponibilità di alloggi in vista dell'arrivo dei profughi dall'Ucraina. Non si conoscono ancora i numeri dell'accoglienza che verrà richiesta alla nostra provincia nei tempi, ma l'amministrazione comunale si è immediatamente attivata nell'ambito delle iniziative coordinate dalla prefettura di Sondrio. Già sabato scorso il sindaco Marco Scaramellini e l'assessore Lorenzo Grillo della Berta avevano incontrato due cittadine ucraine residenti in città per esprimere vicinanza e comprendere i bisogni più urgenti. In questa fase il comune di Sondrio chiede di segnalare la disponibilità di alloggi specificando tipologia, numero di posti letto e ubicazione scrivendo a infochiocciolacomune.sondrio.it Siamo pronti a sostenere questi aiuti garantendo ai cittadini che si renderanno disponibili per l'accoglienza tutto il supporto burocratico e logistico, sottolinea l'assessore Lorena Rossatti che siede al tavolo di coordinamento sull'emergenza istituito in provincia. La prima emergenza è rappresentata dalla disponibilità di alloggi per farci trovare pronti non appena arriveranno i profughi. Grazie per la visione!